Amici di Teleschianto, come vedete siamo nel cantiere dove fervono i preparativi dell'undicesimo carnevale di Tre Castelli, organizzato da Rio Casciara insieme a Promonterado. Come vedete c'è grande movimento e grande lavoro per essere pronti per la sfilata che si svolgerà domenica 22 febbraio dalle ore 15 in poi lungo il viale 8 marzo località Ponterio. Saranno presenti naturalmente stand gastronomici e tanta musica. Quest'anno sfileranno insieme a Rio Casciara e Monterado anche altri paesi della vallata. Mondavio, Monteporzio, Roncitelli, San Filippo, San Michele, Brugnetto, Casine d'Ostra, Pianello d'Ostra, Vallone e tanti altri gruppi che si aggiungeranno in seguito. Un caldo saluto quindi al sole e al bel tempo che accompagnerà sicuramente questa stupenda sfilata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.